In questo video presentiamo i carter motore Slave per Vespa 125 e 150 e per Vespa PX200. La particolarità di questi carter sta che nascono con un pacco lamellare molto performante che permette di montare carburatori di qualunque tipo, diversi dall'originale C, che si prestano molto bene alle elaborazioni dei cilindri che il mercato propone ora. Disponibili sul nostro negozio, EmporioDelloScooter.com, i carter sono una vera rivoluzione. Sono realizzati in pressofusione e sono la punta di diamante della produzione Pinasco. Notevoli sono le migliorie apportate rispetto al modello originale. Infatti hanno un cuscinetto adatto a volano maggiorato 25-52-15 come quello montato su Vespa T5, Rally, GS, SSS e sono stati rinforzati i cosiddetti punti critici. Sono stati fatti dei riporti di materiali in corrispondenza dei travasi che permettono di lavorare i carter nella maniera più ottimale in base al cilindro che si vuole installare. Anche la valvola di aspirazione è stata maggiorata. In questo modo è possibile sfruttare al massimo i carburatori SIDA 20-24-26. Nel modello di carter per Vespa 125-150 il carter è stato lavorato per ospitare l'albero motore del 200, aumentando la dimensione della valvola ed utilizzando una biela da 110. Nel modello di carter per Vespa 125-150 il carter è stato lavorato per ospitare l'albero motore del 200, aumentando la dimensione della valvola ed utilizzando una biela da 110. Inoltre anche i seal and block di questa versione sono quelli montati sul 200. I componenti inclusi nella confezione sono il pacco lamellare completo, il collettore di aspirazione, la serie di prigionieri, la coppia di seal and block motore e il seal and block dell'amortizzatore posteriore. Questo e molto altro su importdelloscooter.com All the places you said we'd go All this pain builds within